salve a tutti i blazers e bentornati nella blazecraft episodio 14 prima di cominciare l'episodio vero e proprio vorrei raccontarvi una cosa che è successa a questa serie e al mondo chi mi segue su facebook già sa cosa mi era successo allora in poche parole ho aperto questo mondo pieno di mod vi ricordo 74 mod e insomma tante robe l'ho aperto con il profilo vanilla quindi comet kitties incoming sta per cadere una cometa di gatti aspettate ve lo racconto dopo ok perchè è caduta una cometa di gatti fatemi vedere che cazzo è sta cosa sono caduti dei gatti ma sono malvagi no cioè vabbè sto zombie che rompe i coglioni però non lo so ragazzi sono caduti dei gatti dal cielo magari li devo tipo addestrare e qua che cazzo è successo cioè guardate che pelo mi ha fatto la casa mi era anche partita la suoneria del telefono ok calmi tutti un attimo qua mi è sparita una torcia non so dove fa niente dai allora rivetiamo un attimo le priorità sono caduti due meteoriti di fianco la casa e per poco non mi hanno distrutto l'entrata quindi è necessario fare lo scudo per le meteoriti poi sono piovuti gatti dal cielo e sicuramente sarà qualcosa di interessante ditemelo voi nei commenti dopo vediamo se si possono addomesticare col pesce e se no non lo so però prima riprendiamo da dove eravamo cioè l'aneddoto che vi stavo raccontando ho aperto il mondo quindi con il profilo vanilla che è un errore comprensibile perché ragazzi io ho sei profili diversi per gestire tutte le varie serie e non mi è mai capitato un errore del genere è la prima volta quindi ci può stare tutto sommato ora cosa è successo che però le ceste sono vuote aspettate un attimo eh e le ceste sono vuote allora ragazzi è un macello ora vi spiego tutto ho aperto sto mondo sono spariti tutti i blocchi e tutti gli oggetti perché ovviamente avendo aperto un'altra meteorite qua sta andando a rotoli tutto allora avendo aperto il mondo col profilo vanilla per esempio questi blocchi che vedete di cui è composta tutta la casa tutto il sottosuolo sono scomparsi perché fanno parte di una mod per cui io ho caricato il mondo sono caduto nella bedrock perché dalla bedrock al cielo era sparito tutto non c'erano più le mod per l'appunto e quindi ho rovinato tutto allora che cosa ho dovuto fare ho dovuto prendere un vecchio backup del mondo un'altra meteorite ragazzi cioè andiamo a vedere mentre parlo facciamo così allora ho dovuto prendere un vecchio backup del mondo e ripristinare tutto perché il mondo c'era già ma la casa non l'avevo ancora costruita in quel backup quindi immaginatevi il forte disagio è caduta un'altra meteorite qua e c'è un coso di mana e forse c'è un mob strano o no è sempre il gatto zombie ok e lì è andato a fuoco l'albero perché è caduta un'altra meteorite anche qui ok è un macello ma riprendiamo il discorso se no non la finiamo più quindi avevo aperto questo mondo era scomporso tutto ho dovuto ripristinare un backup in cui non c'era ancora la casa ho ricostruito manualmente tutta la casa una volta ricostruita tutta la casa paro paro quindi rifatta una seconda volta nel backup ho dovuto rimettere tutti gli oggetti nella ceste perché non avevo più oggetti nella ceste quindi mi sono rivisto i video ho preso appunti di tutti gli oggetti e pian piano li ho rimessi tutti nelle ceste ora sorpresa delle sorprese riapro il mondo tutto incasinato con il profilo delle mod e non me lo sarei mai aspettato è tutto intatto cioè è tutto a posto io pensavo che lo riaprivo e non c'era più niente anche con le mod no invece con le mod tu lo riapri e nonostante avevi danneggiato tutto il mondo si è ricaricato tutto giuro non me lo aspettavo quindi ho lavorato per niente per rifare la casa e già questa è veramente una pessima cosa solo che adesso sorpresa nella sorpresa guardo le ceste sono comunque vuote quindi tanto vale utilizzare il mondo che ho rifatto perché qua le ceste sono vuote eccoci qua dunque visto che ho fatto tutto quel casino lì e avevo perso tutto ho rifatto la casa questo è lo stesso punto in cui c'era la casa prima e come vedete non c'è il villaggio perché appunto non esisteva nel backup e non si è rigenerato e non ci sono i crateri di meteorite perché abbiamo appunto ricaricato adesso l'altra mappa guardate questa casa l'ho rifatta io cioè cambia qualcosina ma è più o meno la stessa cosa guardate che lavoro che avevo fatto ho rifatto tutta la casa paro paro da capo da zero perché non sapevo che si rigenerava quando riaprivo il mondo ma ho lavorato per un cazzo adesso tipo vabbè qua è un po' più largo il corridore o ci sta cose così ho aggiunto sti quadri che non li avete mai visti questi li ho creati io con photoshop e li ho buttati nel gioco cioè tipo il mio logo e uno spammettino per iscriversi al canale che è una cosa carina da vedere ma cioè capite che la casa l'ho rifatta da zero non sapevo che riaprendo il mondo si salvava quindi ho lavorato per un cazzo oltretutto ho dovuto rimettere i vari oggetti nelle ceste tipo questi qua sono gli oggetti che già avevo nella ceste salvo gli incantamenti che non potevo riprodurre o tipo qua il cibo sono gli stessi cibi che avevo o i minerali per esempio li ho rimessi tutti paro paro a parte il titanio e l'uranio che li ho recuperati giù in caverna come vedete ho riscavato la caverna è ancora da rifinire e ho recuperato un altro po' di questi minerali che dobbiamo portarci avanti per l'armatura e niente ragazzi quindi a parte la chest di legno e di pietra che ho messo dentro due cose a caso perché chi se ne frega avevo rifatto tutto paro paro ma nonostante l'errore non è servito a niente perché l'altra casa è rimasta salva non si sa come mai comunque sia questa è stata la mia storia penso che non abbiate capito un cazzo perché è stato un macello da raccontare e vabbè ci conviene ripartire da questa casa da quella che ho rifatto perché oggettivamente nell'altra non ci sono gli oggetti quindi dovrei rimetterli un'altra volta nell'altra casa e non mi sembra opportuno farlo quindi ricominciamo con questa dunque ora che vi ho raccontato tutta sta pappardella e non ci avrete capito niente perché è stato un macello da raccontare però il sunto come vi ho già detto è che era sparito tutto l'ho rifatto ma l'ho rifatto per un cazzo quindi basta sapere questo ora direi di fare la cosa della meteorite quindi il diciamo il protettore dalle meteoriti lo scudo antimeteorite che dovrebbe chiamarsi shield qualcosa meteor shield eccolo qua diamo il recycle pipe quindi ci servono tre meteor chip mi sa che non ce li ho pietra e redstone e abbiamo sto coso qua ci serve perché abbiamo visto che c'è stata una pioggia di meteorite meteoriti e ci stava spaccando tutto quindi ci servirebbe allora devo togliere come al solito qua uscire e infatti abbiamo solamente due chip anziché i tre che ci servirebbero quindi ragazzi non lo possiamo fare nonostante tutto non lo possiamo fare ottimo vabbè a sto punto visto che non possiamo comunque fare il cazzo di chip si di chip chip è la cosa che ci serve ci manca non possiamo fare il meteor shield direi di andare alla battle tower quindi allora è già giorno quindi direi di andare alla battle tower quindi alla fine dei dei conti ci andiamo comunque perché non posso fare il coso che ci protegge dalle meteorite insomma a meno che non troviamo una meteorite adesso sulla strada allora come se non bastasse ho tirato una laggata pesantissima quindi mi è crashato minecraft perché non ci avevo pensato che questa zona non si era ancora rigenerata quindi è come se fosse la prima volta che la visito teoricamente e quindi niente siccome si doveva generare il mondo ha laggato per un attimo visto che sto registrando si era impallinato tutto allora fra l'altro mi sono ricordato che io nella scorsa puntata avevo recuperato qualcosa delle meteore ho visto il video e ne avevo 23 pezzi allora adesso non era o era questo qua red meteor gem sapete che non ricordo non vorrei divarmi qualcosa che non mi sono meritato insomma allora falli meteors questa qua è crack norite che non so cosa sia comunque sia ne avevamo e adesso ci sistemiamo ne avevamo 23 quindi facciamo così e così ne avevamo presi 23 se ricordate nella scorsa puntata quindi me li sono righivati perché comunque sia era una cosa che mi aspettava ah oltretutto ovviamente io mi sono givvato tutto con con la creative perché non è che posso riconquistare tutti gli oggetti quindi mi sono però sono stato un esso diciamo mi sono ridato le cose che avevo già a parte gli enchanting perché gli enchanting purtroppo non li potevo riprodurre così come erano quindi per esempio l'arco aveva power 1 e non potevo riprodurlo a power 1 ho dovuto mettere power 5 che ovviamente è di più e vabbè però non non ci posso fare niente perché come facevo a mettere power 1 dovevo metterlo nell'enchanting table finché non mi dava un arco con power 1 avrei perso un sacco di tempo soprattutto per le armature tipo i piedini hanno doppio enchanting quindi come facevo a riprodurlo preciso ho dovuto usare i libri e mi è andato ovviamente degli enchanting a livello massimo quindi questa è l'unica diciamo non fregatura però è l'unica cosa sleale che c'è in tutta questa storia va detto che comunque sia poi cambieremo tutto l'equipaggiamento quindi alla fine dei conti ecco la battle tower c'è ancora ha solo cambiato materiale però c'è ancora alla fine dei conti comunque sia prima o poi butteremo via queste cose quindi la slealtà andrà a scomparire diciamo così detto ciò penso di aver già fatto una puntata abbastanza lunga forse un quarto d'ora ho già registrato magari taglierò qualcosa ma voglio comunque iniziare ad andare nella battle tower perché non abbiamo combinato nulla in questa puntata quindi mi dispiacerebbe lasciarvi così quindi iniziamo ad entrare e a spaccare sti cosi ok e quindi vabbè il primo livello è molto semplice come si può vedere cosa abbiamo qua cazzate però noi c'è la cazzo di formica di merda uccidiamola comunque sia noi prendiamo tutto torniamo anche Eren e niente cominciamo a salire la battle tower adesso vediamo quanto ci mettiamo se riusciamo a farlo nella puntata mio dio che accoglienza di merda c'è un sacco di gente un sacco di gente ragazzi mmm ma do vi spacco tutti gli spawner dell'ostrega allora te intanto devi morire perché così non vai bene te lo dico anche te devi morirci e spacchiamo questo allora qua pane mila bla 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 cose inutili comunque sia mi sono dimenticato di registrare il livello sotto ho perso la registrazione speriamo che sia solo quello eh sì ho dimenticato di di fare registrare un pezzo però niente c'erano un sacco di ragni e stavo dicendo che più si sale più le cose saranno preziose soprattutto in cima abbiamo sicuramente del diamante però ci dobbiamo arrivare in cima ragazzi perché qua potrebbe sembrare una cazzata perché lì one shot tutti questi però se sono in tanti è un casino non mi danno neanche il tempo di spaccare gli spawnersi qua dai dai ok fatta eh sì oggetti poco utile anche qui vabbè dai possiamo continuare a salire chissà quanti livelli sono fra l'altro boh comunque sia dovremmo essere già a buon punto saranno tipo sei livelli li abbiamo fatti qualcosa del genere mmm ok adesso ne dobbiamo rifare uno però risaliamo cazzarola ok basta buttarmi giù madò che palle mi avvelenano pure oh avete rotto il cazzo ma ok allora uno è andato fuori dalle palle e questo pure ma porca di quella ma questi piovono da sopra oh laggano pure cioè ragazzi che macello allora andiamo su perché qua dobbiamo spaccare tutti gli spawner sennò non ci mollano più odiosi ranni velenosi di merda mi dovevo portare una secchiata di latte altro che le bistecche allora ti spacco tutto ti anche se laghi eh però mi becca sempre prima lui mi chiama non finisce è spawnato uno zombie caduto epico ma madò no 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 allora per piacere per piacere aspetta che forse abbiamo trovato lo spawner dei ranni malefici no mi stanno uccidendo mi stanno per uccidendo mi stanno per uccidendo attenzione scappiamo un attimo ok devo recuperare vita mannaggia a sti cazzo di di ragni let's go bitches ok comunque si basta ma da dove cadono ma avete rotto i coglioni però allora muorici muorici e spacchiamo sta merda mamma mia ragazzi quanto sono insistenti quanto insistono allora scappiamo ancora un attimino che intanto mangio mangio tutto e non ho ancora capito dove minchia è lo spawner di ranni ma se io tipo faccio così mio dio adesso vi spacco tutti stronzi no sono caduto fuori no ma porca di quel leva questo per tutti quelli che mi hanno detto di usare la thunderstaff contro il boss ragazzi avete visto cosa fa la thunderstaff che cazzo di contraccolpo mi ha dato mamma mia adesso recupero tutto e torniamo su comunque dovremmo esserci qua non c'è più un pezzo di tutto qua è esploso il mondo però le scale sono intatte ok l'importante è quello cazzo però mi serve mi serve il fottuto piccone ragazzi allora mettiamo il piccone qui ok vai muori 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 ho detto ho detto di morire cadi bravo cadi spacca e spacca ok che cazzo no il boss il boss il boss aiuto il boss non tutti insieme però l'ho già fatto fuori sono pro sono tantissimo pro no che brutto che brutto guardatemi sono si sto piccoletto mi fa volare via ma stiamo scherzando ragazzi cos'è successo che cazzo oh ma che cazzo succede sono io che esplodo aspetta no aspetta fermi tutti fermi tutti ah no è la torre che si sta rompendo oddio sta crollando la torre sta crollando la torre fugone tipo cadiamo nei buchi chi se ne frega ma sono Eren no sono no formica di merda devo essere il cazzo di Eren via di qua via che sta esplodendo tutto via 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 ma da i diamanti non li ho presi proprio ma per niente li ho presi per niente ah no ne ho preso uno l'on eh vabbè comunque si è saltato in aria tutto è stato il caos puro ragazzi il boss l'ho fatto fuori subito anche se è potentissimo per via di questa spada però vabbè abbiamo perso un bel po' di diamanti mi sa perché stava esplodendo tutto e li abbiamo perduti niente comunque è figo l'effetto della della torre che si disgrega perlomeno e niente ragazzi io direi di mettere tanti like ma tipo quanti sono queste formiche per mille però il numero di queste formiche per mille di like perché sono meritati per tutto sto macello che ho fatto per fare sta puntata commentate condividete il video io vi saluto e ci vediamo nella prossima puntata ciao a tutti ciao a tutti